sei informissima grazie la dieta per per essere sempre in forma qual è tu che cosa hai a che ora ti svegli la mattina alle otto alle otto e mangio bevo tre caffè al giorno che fa male non so che fa male mangio due volte al giorno la pasta va bene molto gelato sì e sono molto molto galosa dunque mangi quindi molto in fondo si mangio tantissimo non riesco ingrassare poi quanta ginnastica fai tanto quanto stai in palestra dipende quando non sto lavorando e sono molto pigra 4 5 ore al giorno invece quando mi impegno faccio classico faccio una sorpresa per la prossima trasmissione che non volevo dire poi intenzione canto altre cose studio tanto devo studiare vogliamo tornare indietro per un momento eh di un anno solo alla scorsa puntata di fantastico alla scorsa cioè edizione una bella memoria una bellissima memoria andiamoci dai vai ciao ciao a presto e del parisi 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 ciao a presto